Musica I festeggiamenti in onore di San Nicola in diretta su Antenna Sud, il corteo, la celebrazione eucaristica, l'air show delle frecce tricolori, tutto live sui canali 14 e 92. Domani invece a Taranto si festeggia San Cataldo. Non solo condanne all'Italia per violazione di diritti ma anche risarcimenti agli ex operai dell'Ilva e l'effetto di quanto deciso dall'acedo nei giorni scorsi. La vittoria sul Pordenone, la promozione, la festa che esplode in una città da Serie A, la gioia delle eccesi per il ritorno in massima serie. Ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antenna Sud. Tra pochissimo il corteo storico di San Nicola in diretta sulle nostre reti. Abbiamo in collegamento dal Comune i colleghi Antonella Fazio e Antonio Bucci. Dal sagrato di San Nicola Don Mimmo Minafra io vado subito da Antonella e Antonio. Buonasera Antonella, buonasera Antonio. Buonasera, buonasera Flavio. Siamo all'interno di Palazzo di Città. Le immagini che vedi sono quelle del benvenuto del primo cittadino Antonio De Caro alla patuglia acrobatica tricolore. La consegna proprio in questo momento dei simboli della città al generale Frigerio, comandante della terza regione aerea, accolto dalla rappresentanza dei comuni che saranno lambiti dallo spettacolo aereo. Giovinazzo, Molfetta, ci sono tutte le rappresentanze istituzionali. Abbiamo già intervistato, priva di questo spazio, tanto Stefano Witte, talento del colonnello che guida la patuglia acrobatica nazionale. In questo momento stiamo vedendo la consegna dei simboli della città proprio alla guida. Ecco qua il tenente colonnello Stefano Witte, ai nostri microfoni, ha raccontato l'auspicio che questo rombo sia soltanto il rombo segno delle evoluzioni, con chiarissimo riferimento a quello che sta avvenendo sullo scenario internazionale. Dunque la cerimonia si concluderà a brevissimo perché la tabella di marcia è stringente. Ci sposteremo con il primo cittadino al castello dal quale poi partirà il corteo. Antonella? Sì, sì Antonio, noi siamo tutto pronto. Qui è tutto pronto per iniziare con il corteo. Ovviamente noi stiamo dando spazio alle immagini perché bisogna essere in rigoroso silenzio per questa cerimonia. e quindi non ci potete vedere ma ci vedrete sicuramente tra poco più di un quarto d'ora in diretta dal Castello Svevo per la nostra diretta del corteo storico. Flavio, se non ci sono domande da studio, noi ti restituiremo la linea e ci vediamo alle 20. Appuntamento a tra dieci minuti. Grazie Antonio, grazie Antonella. Vado con un saluto al volo veramente di un minuto da Don Mimmo Minafra che sarà protagonista assoluto tra dieci minuti. Buonasera Don Mimmo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora qui c'è un grande fermento, davvero è molto bello vedere nuovamente la Basilica di San Nicola gremita di pellegrini, di devoti e di tanta gente. Per cui c'è da sperare che sarà davvero un'edizione molto bella. L'edizione della rinascita, della ripresa dopo la pandemia. Quasi quasi mi sembra strano perché abituato a stare in studio con tutti voi, oggi mi vedo qui un po' a casa mia alla Basilica di San Nicola e davvero sono molto molto emozionato. A più tardi. Grazie a Don Mimmo Minafra. Appuntamento quindi alle 20 su Antena Sud dal canale 14. Ma andiamo anche a Taranto perché cresce l'attesa per la giornata di domani con i festeggiamenti del patrono San Cataldo e il Palio. Diretta televisiva alle 17.45 su Antena Sud. Sentiamo alcune anticipazioni. Domani a Taranto con il ritorno della processione a mare del patrono San Cataldo e il Palio di Taranto. Due momenti attesissimi nei quali l'intera comunità si identifica che verranno trasmessi in diretta a partire dalle 17.45 sul canale 14 di Antena Sud. Per ciò che concerne i festeggiamenti del Santo Patrono si ritorna alla tradizione con alcune novità. Tra i momenti più attesi, l'8 maggio alle 18.45, la liturgia della parola con l'arcivescovo Santoro e la consegna del simulacro del Santo Patrono al commissario prefettizio, la cosiddetta cerimonia Dupregge alle 19.30, l'avvio della processione a mare su nave che era di messa a disposizione dalla Marina Militare. La processione a terra a partire dalle 18.30 di martedì 10 maggio, con partenza da Piazza Duomo al passaggio sul Ponte Girevole, un omaggio dal mare degli acrobati, i flyboard, sulla rotonda del lungomare gli sbandieratori e i musici della città di Oria. All'arrivo in via d'Aquino la tradizionale allocuzione dell'arcivescovo alle 21.30 in Piazza Castello, musica e poesia di Lucio Dalla, concerto dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta da Giacomo Desiante. Si andrà avanti fino alle 23.30 con fuochi pirotecnici scenografici senza botti. Dalla festa per i santi patroni di Bari e Taranto a quella dei tifosi del Lecce che ieri sera hanno celebrato la promozione in Serie A. Ore 22 e 24 minuti di venerdì 6 maggio. Al triplice fischio scoppia la festa, non solo all'interno dello stadio Via del Mare, ma anche tra le vie della città barocca. Tra chi non aveva avuto il biglietto per poter entrare nell'impianto dove c'è stata la vera e propria festa insieme a Lucioni e compagni che però poi intorno all'uno e mezzo di notte si sono trasferiti per le vie del centro dove in tantissimi li aspettavano. Per tributarli il doveroso applauso e abbraccio dopo un campionato concluso al primo posto. Oggi allo stadio ci siamo comportati benissimo, ci siamo comportati, ci siamo comportati benissimo. Forza Lecce! Il cuore a mille in questo momento! Siamo felicissimi! Ce l'abbiamo meritato sul campo fino alla fine! Forza Lecce! Forza Lecce! Finalmente per il primo anno siamo primi, primi, sempre primi e i soli della Puglia. Mi dispiace per le altre squadre e cugine, ma rimaniamo in Lecce, l'unica squadra della Puglia in Serie A. Forza Lecce! Da una pagina bella ad una meno bella per i supporters salentini, obbligo di dimora per tre tifosi. Fatti risalgono al 2019 quando una cinquantina di supporters giallorossi assalirono quelli del Pescara sulla Lecce Brindisi. Era la sera del 31 marzo del 2019 quando si verificò un assalto dei tifosi giallorossi, una cinquantina contro quelli del Pescara lungo la statale 613, all'altezza di Torchiarolo in direzione Lecce. Un'azione militare che solo per miracolo è stata sfiorata una strage con più di un omicidio. Così è stato definito l'assalto in conferenza stampa dal questore di Lecce. Fumogeni, mazze, sassi e petardi scagliati contro il bus diretto allo stadio. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche alcune ambulanze per scorrere quattro feriti tra i tifosi abruzzesi. Diversi mezzi danneggiati e un'auto presa addirittura a fuoco, probabilmente perché è centrata da una bomba carta. Su quell'episodio i poliziotti della Digo sora hanno fatto luce e il GIP del Tribunale di Lecce ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di tre persone appartenenti alla frangia ultra Lecce. Si tratta di un trentenne di Cursi, un ventisettenne di Lecce e un ventinovenne di Melendugno. I facinorosi leccesi, nel rivendicare gli scontri avvenuti nella gara di andata a Pescara, si nascosero dietro le siepi lungo il bordo destro della careggiata, travisati e incappucciati per poi entrare in azione. Per individuare i presunti responsabili, poliziotti hanno fatto eseguire indagini di natura biologica sugli indumenti rinvenuti sul posto per estrapolare alcuni profili di DNA. I tre non sono nuovi alle forze dell'ordine, ora sono accusati in concorso di lancio di materiale pericoloso, detenzione, trasporto e ruoco pubblico di esplosivi e strumenti atto ad offendere, danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate. I tre ora sono obbligati alla permanenza presso la propria abitazione dalle 20 alle 6 del mattino. Le indagini sono ancora in corso per individuare altri responsabili e per arginare episodi di questo genere, fa sapere il questore che poi ha aggiunto. Per noi è importante far capire che questo genere di reati non possono passare impuniti. L'episodio è troppo grave per non chiarirlo, per rimanere oscuro oppure per essere archiviato così. Ce lo siamo proposto subito dopo che è accaduto. I tre che hanno già avuto la misura appartengono al gruppo Trastlecce. Gli eventuali complici che ci sono stati, perché il numero era abbastanza consistente per mettere in atto una situazione del genere, non si poteva essere impuniti, sono tutti comunque riconduciti allo stesso totalizzo. Non solo condanne all'Italia per violazione di diritti, ma anche risarcimenti agli ex operai dell'ILVA. L'effetto di quanto deciso dalla CEDU nei giorni scorsi, abbiamo incontrato gli avvocati che hanno presentato i ricorsi. Quella che si è consumata all'interno dell'ex silva di Taranto è stata una grave violazione dei diritti umani dei lavoratori, in particolare di due, uno dei quali nel frattempo è venuto a mancare. A dirlo sono due delle quattro sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, presso la quale erano stati presentati due relativi ricorsi nel 2017 e nel 2019. Insomma, il governo italiano non li avrebbe salvaguardati, così come avevano sottolineato nei documenti gli avvocati Yolanda De Francesco e Biagio De Francesco, per conto del sindacato, lavoratori metalmeccanici organizzati. Un ulteriore passo avanti in questa sentenza, in particolare nei due ricorsi che vedono coinvolti dei lavoratori ILVA e ex ILVA, laddove per alcuni di essi riconosce la violazione in misura talmente grave da riconoscere un equindennizzo. Abbiamo evidenziato la grave violazione del diritto alla vita, delle condizioni inumane e degradanti in cui i lavoratori erano costretti a lavorare. La nostra azione continuerà, stiamo già valutando di fare una proposta e un esposto al Consiglio d'Europa come sindacato e sicuramente sosterremo i lavoratori che in questa battaglia continueremo a fare ricorso alla Tribunale di Taranto e sicuramente ci batteremo a fianco a tutti i lavoratori ma anche i cittadini. Chiudiamo con il calcio, 3-3 tra Modena e Bari nell'ultima di Supercoppa. L'Andria perde 1-0 contro la Paganese nell'andata dei play-out. Vediamo il servizio della sfida tra i Biancorossi e il Modena. Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida del Bralia tra Modena e Bari, ultima stagionale per i ragazzi di Mignani che concludono con un punto la loro avventura in Supercoppa. In vantaggio con Citro dopo il momentaneo pareggio di Bonfanti, Biancorossi erano andati fino all'1-3 per poi farsi raggiungere a 15 minuti dalla fine. Spazio a Frattali, Terranova botta Antenucci e Citro nell'undici titolare rispetto a sabato scorso, Tesser manda in campo tante seconde linee. Bari in vantaggio dopo 9 minuti, triangolo malamo Citro, Baroni sbaglia il rinvio e l'attaccante Salernitano ne approfitta battendo Narciso che tenta il disperato salvataggio con il piede. Il Modena sfiora il pari al quarto d'ora, ma Magnini spara incredibilmente fuori da pochi passi. Il pari arriva al minuto 20, calcio di punizione di Renzetti, Bonfanti anticipa tutti e di testa spedisce alle spalle di Frattali. Tre minuti più tardi i Biancorossi tornano avanti, filtrante illuminante di botta che pesca Citro tra le maglie avversarie. Il 18 salta Narciso e deposita in rete a porta vuota. Bari ancora in gol poco dopo la mezz'ora, malamo sfrutta al meglio il pallone che le arriva al centro dell'area di rigore e Fredda Narciso da pochi metri. Il Bari si salva due volte in avvio di ripresa, ma il 51esimo capitola ancora ad opera di Bonfanti che è servito da Giovannini, anticipa Ricci e Gigliotti e di testa supera Frattali. Stesso copione al minuto 74, questa volta il pallone arriva da Renzetti con l'attaccante Scuola Inter che beffa ancora Gigliotti e Ricci e batte il portiere del Bari. I Biancorossi provano a vincerla al terzo di recupero, ma che dira di testa non c'entra di poco lo specchio della porta. Finisce 3-3 su Tirole e Modena, si giocheranno sabato il trofeo per il Bari e tempo di vacanze. Questo era il nostro ultimo servizio, linea alla regia e poi la diretta del corteo storico di San Nicola. Restate con noi. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social. Grazie a tutti.